KMS Windows XP. Se siete ancora in possesso di un vecchio computer con Windows XP, sapete quanto possa essere frustrante non essere in grado di attivarlo o riscontrare problemi di attivazione. Microsoft ha interrotto il supporto per Windows XP nel 2014 e molti utenti si trovano ora a dover fronteggiare problemi di attivazione e di utilizzo del sistema operativo. Ma non temete, ci sono ancora modi per attivare Windows XP nel 2022 e utilizzarlo senza problemi. E in questo video vi mostreremo come farlo. Innanzitutto, è importante capire che l'utilizzo di Windows XP senza una corretta attivazione può comportare rischi per la sicurezza del vostro computer. Ma non vi preoccupate, esistono metodi sicuri e affidabili per attivare il vostro sistema operativo. Durante il video, vi mostreremo vari metodi per attivare Windows XP, incluso il metodo offline, il software KMS e altri trucchi segreti per superare gli errori di attivazione. Inoltre, vi forniremo anche consigli utili su come risolvere problemi di avvio e spegnimento di Windows XP. Non solo, ma utilizzando i metodi che vi mostreremo nel video, potrete continuare a utilizzare il vostro vecchio PC con Windows XP senza dover investire in un nuovo computer o in un sistema operativo più recente. Quindi, se state cercando una soluzione per attivare Windows XP nel 2022 e sconfiggere gli errori di attivazione, non perdete l'occasione di guardare il nostro video e seguire le nostre istruzioni. Siamo sicuri che una volta che avrete attivato correttamente il vostro sistema operativo, vi godrete ancora molti anni di utilizzo del vostro vecchio PC con Windows XP. Grazie per aver guardato questo video. Se volete aiutare il canale, non dimenticate di iscrivervi. Da qui vi auguriamo una buona giornata.